Quello che mi dicevano stai calmo, stai fermo, c'è la pistola, non ti muovere. Era ancora scosso questa mattina Massimo Iacucci, un imprenditore di 58 anni, vittima di una rapina a mano armata. Nella notte intorno alle 2.40, tre banditi col volto coperto da passamontagna hanno rotto una lampada con sensore di movimento posta all'esterno della casa e sono entrati nella sua abitazione dove vive da solo, forzando questa finestra laterale che dà su una stanza adibita d'ufficio. I rumori hanno svegliato il proprietario che si è alzato per andare a controllare e lì ha notato tre ombre. Sono seguiti attimi di terrore con l'uomo che si è messo ad urlare con l'intento di svegliare la sorella che abita al piano superiore. I banditi gli hanno subito tappato la bocca con una mano e gli hanno intimato con pistola e torcia puntata in faccia di non opporre resistenza e di consegnargli tutti gli oggetti di valore tenuti in casa. E così ha fatto, ha aperto la cassaforte e con estrema lucidità ha consegnato i soldi e i gioielli custoditi all'interno per un valore che si aggira attorno ai 3.000 euro. E certamente all'inizio appena che li ho visti ero un po' agitato, poi piano piano mi sono calmato, mi sono un po' reso conto della situazione e ho detto meglio che questi prendano, vanno via, di fatto hanno preso, sono andati via. Secondo lei era una pistola giocattolo o invece un'arma poteva farle del male? Guardandola così mi sembrava più una pistola giocattolo a prima vista, però io non mi intendo di armi, non le ho mai viste. La prima volta che vedo le armi dal vivo, perciò non è che ho a che fare con le armi. Dopo i carabinieri mi hanno detto se ero uguale a loro, penso di sì, però non ho la più pallida idea se era finta oppure se era vira. All'arrivo dei militari comandati da Alfonso Falcucci, i tre rapinatori erano già scappati passando sempre dalla finestra. Mia sorella e mia cognata hanno chiamato i carabinieri, però anche loro sono arrivati dopo cinque minuti, appena finito loro sono arrivati. Ora proseguono a 360 gradi le indagini da parte delle forze dell'ordine, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'uomo, secondo una sua descrizione. I malintenzionati avrebbero sui 33 o 35 anni, sarebbero stati alti un metro e 75 circa, ed uno di loro parlava con accento anconetano. Uno è italiano, uno mi sembra dell'Africa del Nord e l'altro, il terzo, non ha parlato, non lo so. Nell'istante sono stati allestiti posti di blocco in tutta la città e circa un'ora più tardi gli agenti del commissariato di Fano, coordinati da Stefano Seretti, hanno fermato al casello della 14 un'auto, un'Opel Corsa rubata qualche giorno fa sempre a Cucurano. A bordo c'erano tre persone che però hanno inchiodato prima del posto di blocco e sono fuggite a piedi nei campi adecenti. Nella vettura sono stati ritrovati diversi arnesi da scasso, seghe elettriche, guanti, una collanina d'oro, tutti oggetti rubati sempre nella notte, ma nelle zone di Mon Baroccio e Monte Labbate. Nell'abitacolo i poliziotti hanno ritrovato anche una lepre, presa dal treo in un ristorante a Sant'Andrea in Villis. La refurtiva quindi non viene attribuita ai malviventi che hanno rapinato l'imprenditore fanese. Tra l'altro l'uomo già da tempo aveva l'intenzione di installare telecamere di videosorveglianza. Loro sono arrivati prima, hanno fatto tutte queste cose qua e perciò adesso tocca trovare un po' il sistema da stare un po' più sicuri.